Ben tornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ci siamo occupati spesso degli scarichi liberi in periferia, in particolare nell'area delle cave di Quarata. Abbiamo presentato ultimamente per due volte il caso di Ortali. Della vicenda, come vi abbiamo raccontato con Beppe Marconi, la scorsa settimana se ne era occupato anche il Consiglio Comunale, un'interrogazione di Francesco Romizzi di Arezzo in Comune. Noi ora però siamo andati a saperne di più. Siamo andati dall'assessore all'ambiente Marco Sacchetti, a cui abbiamo chiesto sia di questo problema degli scarichi liberi ad Ortali, e sentirete che la risposta non è molto incoraggiante, sia di tutto il problema ambientale dell'area delle cave di Quarata, dove questo problema degli scarichi liberi è uno degli aspetti un po' antipatici di quell'area, che anche fa parte di un'area preoccupare da tempo gli abitanti. Allora sentiamo che cosa ha risposto la nostra Chiara Sadotti, l'assessore Sacchetti, sugli scarichi liberi a Ortali che abbiamo documentato, ma anche sulle altre problematiche ambientali dell'area delle cave. Il Comitato delle Cave residenti di Quarata ci hanno detto di aver richiesto più volte un incontro con l'amministrazione. Ci sarà questo incontro? Io sono sempre disponibile a ricevere il Comitato di Quarata, come l'ho ricevuto in passato diverse volte i loro rappresentanti e nell'ultimo incontro io ho manifestato la volontà di sostanzialmente soddisfare le loro richieste, che era quello di avviare un'indagine conoscitiva sull'area del triangolo delle cave, che è un'area estesissima ovviamente, per quanto riguarda le caratteristiche del sottosuolo. Attendo ancora che gli uffici mi dicano che ad oggi non c'è stato questo tavolo tecnico tra i tecnici del Comitato e i nostri tecnici per definire poi la campagna di indagine, perché poi se si tratta di fare delle indagini del sottosuolo si tratta di definire dove, come, cosa fare e cosa non fare, è una cosa molto tecnica e chiaramente non è che si può così derimere a un tavolo non tecnico. Quindi attendo ancora la definizione di questo programma, le risorse ci sono per fare queste indagini, saranno un'indagine conoscitiva sul sottosuolo, come richiesto dal Comitato. Risorse che deriveranno dagli introiti delle scavazioni? Sì, queste sono sempre risorse derivanti da attività di scavazione fatte in passato, perché ad oggi di fatto non c'è attività di scavazione sul territorio retino, perché l'area di cavo autorizzata si sono di fatto esaurite, quindi sono residui del passato. Poi se ci saranno nuove attività di scavazione, quindi si troveranno poi ulteriori risorse derivanti da questi oneri previsti dalla legge regionale a compensazione appunto dell'attività di scavazione. Chiaramente il problema dell'area, del famoso triangolo delle cave, è un problema, è un'area estesissima, quindi richiederebbe indagini ovviamente importanti in termini numerici e quindi anche risorse importanti, che chiaramente non sono ad oggi nelle disponibilità, nelle case del Comune. Quali saranno le risorse che verranno messe a disposizione per questa attività di indagine? Allora, per questa attività di indagine grosso modo si parla dai 30 a 40 mila euro che sono disponibili per fare questo tipo di indagine. Parlare di bonifiche in questo Paese, ma non mi rischio Arezzo, mi rischio il Paese, il nostro Paese all'Italia, è un parolone, perché chiaramente c'è un approccio normativo alla bonifica molto rigida e molto intransigente, per cui per fare una bonifica per esempio delle scavare gialli, cioè ci vogliano svariate milioni di euro si parla. Un monitoraggio verrà fatto, è opportuno sempre avere informazioni, chiaramente quello per capire cosa sta succedendo, per capire le dinamiche e l'evoluzione di quello che accade, sia per quanto riguarda Corpidici che per quanto riguarda il sottosuolo. Per quanto riguarda invece i scarichi liberi di ortali, l'amministrazione cosa pensa di fare insomma in questo frangente? Ad oggi noi possiamo fare ben poco, se non quello ovviamente di richiedere ai soggetti compesenti interventi di monotenzione per garantire il corretto deflusso delle acque. Dunque, il Comune, avete sentito, sugli scarichi liberi ortali può fare ben poco, forse come abbiamo già detto anche con Beppe Marconi le scorse volte, sarebbe il caso quantomeno di obbligare una volta individuati i proprietari degli edifici dai quali arrivano questi scarichi di quantomeno obbligarli a installare il depuratore di modo che queste acque arrivano sì in modo libero ma non sono scarichi che diciamo fanno male tra virgolette all'ambiente e poi avete sentito anche le risposte sull'area delle cave, sul monitoraggio che sarà fatto, il problema è se poi mancano i soldi facciamo il monitoraggio, facciamo lo studio, se lo studio desse risposte preoccupanti e negative e poi non ci sono i soldi, che succede? Quindi insomma è utile sapere le cose sicuramente ma dovrebbe essere un'utilità finalizzata poi a risolvere il problema, non vorremmo che magari si scoprisse che l'area prevede degli alti tassi di inquinamento come qualcuno sospetta e poi dall'altro non ci sono i fondi per intervenire. Continueremo comunque a seguire questa vicenda, ci vediamo domani.